Stiamo registrando? Sì! Ciao ragazzi, oggi siamo su Fistful of Frax Passiamo alla presentazione Mi chiamo Gino Panino Eh, chi sei? Salta, salta Che sei brazo Poi siamo con... Frazzi Salta, Frazzi E Shin Shinigami Ok, io adesso ho messo Frazzi Perfetto, via! Aiuto, aia! Fa malissimo La fine è lui, è rimasto Che sta musichetta? Io non sento musichetta Ma che la sentirete? Ma la sentirete, meno mano Lento c'è chi? Aia Beh, come possiamo vedere, questo gioco è davvero bello Abbiamo speso tutti 75 euro a testa Perché è pre-alpha Anzi no, scusa Era una beta di un gioco in sviluppo dalla EA Ok, basta In accesso ritardato In basta con le meme In accesso ritardato In accesso ritardato Uccisamente evitivano No, poi ho scelto perché prendevo un'arma Aia! Ma come l'ho mostrato? Ah, giusto Ci saranno altri davanti Le beta di un'arma in sviluppo da un'arma in sviluppo da un'arma in sviluppo? Aia! Ma che non riesco a uccidere nessuno? Ma che è che è arrivato? Che cosa? Aspettetevelo ragazzi Arrivato uno correndo No, ma c'è Sì, però esci dalla porta Per piacere Guardalo questo Guardalo Chi era? Non, non, non stare fermo almeno in video Ma avevo il cecchino Eh, ti devi muovere Ma che col cecchino? Ma perché il più scarso doveva registrare? Oh Mammo Ma perché il più scarso doveva registrare? A me non lo so Ma come il più scarso? Ma perché il più forte sei tu? Cosa sei tu? Io sono Aia! Chi è questo? Andavino un po' Albert Hems No Hems, 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 Hems Una donna Donna santa Violenza E' fermo Boom Violenza gratuita No, nulla è gratuito A parte questo gioco A parte il room Ma io Che kill dai Che kill cosa? Spammare? Col coso che non spamma Ma perché siamo su questi giochi? Ve lo aiuto a 30 metri col cecchino senza medino Ho preso qualcuno Boom Mi sono giocato no Aspetta Mi scelte la vita Come sei stato da Che combatto in mente emozionante Sì io non ho giocato Io tu voglio andare a fare i 3-7 Ma che cazzo? Stai fermi in un po' Non me la sto camperando Che schifo Eppure registri tu Non devi far buttare qui Oh Cosa? Cioè vi ha visto che un morto Ok Ok tutto ormai Non tutto ormai Croo doppietta da lontano Stava c'era Sì vabbè Disattiva i russi E' diventato un'arena sto gioco Chi è quello? Dai Chi è che sa la campera scusi? Tutto maledetto Questo col pompa da lontano Questo è l'altro Vedilo Il morto è salito Che vuoi? Ma sei zitto? Mi ha amato di nuovo Eh ma dai Sì dai Dai basta Dai io sto con un semi automatico Sei col fucile a pompa Fermati Non scappaglia Il pistolero Del West Oh 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 Dai non sono giocata da Roblox Io che mi amo No Un'altra volta lo portiamo a Roblox Però No Roblox no Vabbè dai Sì Roblox Ahia Ahia Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? La persona Chi è? La musicetta che parte ogni volta che prendi una kill è fantastica Ma a me non parte Ah forse la voluta disattiva Eh è fatto bene È stupido Ma ho fatto bene Il copy rigged Il copy rigged Non vuoi sentire il magneto Oh quanta lo sia Eh no il copy rigged Aiuto Quando ho un'arma con il 99 Eh vabbè Finalmente Ma ho dimmi Ma ho dimmi Ma ho dimmi Cioè sei scarsa Ah beh dai Ma vaffanculo Ah voglio Ah ma siamo tutti Siamo tutti all'11 Tranne Frazzi Ah Fatemi spawnare Ragazzi Frazzi Che era il più forte È diventato più scarsa Davvero Il più forte era Io non ci credo Eh mia morte è un male Nemmeno io ci credo Ah no Su da come un maiale Su da come un maiale Quando giocava Ma quella è un broale La suga mano Eh fermati Dove vai? Ma perché scappa la gente? Non schifo Cioè Vabbè ok Non Veramente È questo Vabbè La pugna è morta Ovviamente non hai prenduto Guarda in testa l'ho preso A tua madre A tua madre A tua madre Oh Ma quest'altro Non ti prende Ma ci mancherebbe Ah Mi è shottato Non lo scompisimare Ah Ah Oh Oh Ma che sia No il cappello T'è volato Cosa RUTTI VAL EDUCATO È morto Stalbert house De foro Ma ho fatto straridere Francesco Ma cosa RUTTI VAL EDUCATO Beh ma ti Mi ruti di ma che cosa RUTTI VAL EDUCATO Ma perché scappi E' uno schifo proprio DALALA Ah Ok E' uno schifo Belle armatoglio Come non sporgierò la pistola Fermati Sì Mi dai Non, ti prendo No, ti prendo No, non, non Mi dà la kill Ma che cazzo 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 di me Guarda Oh salta l'uscita Dov'è frazzi a camperare? Dov'è frazzi a camperare? No Mi ha integrato la kill Maledetto lato Non quel arco che non prende niente Non prende un cazzo Non mi fregare la kill è mia Stai fermo Muori Chi è quello? Perché non ho colpi? Fatta male 51 e 51 Cosa? Perché? 100 di vita in seguito Non prende niente Non mi lazzate niente Sì l'abbè c'ho l'arco C'ho l'arco Ma fa bene meglio Dov'è stare avanti così? Ma fa schifo Ok non lo c'ho l'ant'ora Ti ho fatto danno Fermati Non è preciso Oh Oh Mi fate le cose Mi fate le kill Mi fatele tu A 18 sta veramente a quel No 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 Sta veramente a 18 quello Sì non lascia 3 ore che Va veramente Lasciugamano dovevo mettere Oh è bello con l'arco Oh è bello con l'arco Oh è bello Mi ha arrivato una kill Ah che è da dietro Mi uccidano da dietro Figurati che doveva essere Corretti Contro quanto spara E che cavolo Dovevo farmi esplodere Ah è quello con l'accetta Accetta Oh finalmente Ahia L'esplosivo No mi ha tanto l'arma L'arco l'arco Non ci credo Veramente c'è riuscito Ho il coltello Con il coltello Stai lontano Non fatelo vincere Non fatelo vincere Oh yeah Cilentelo Albania casa mia Albania Vinicola Oddio Eh vabbè Stuperato nei vicoli ciechi No 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 Vai via con quel coltello Che non ho vinto Non ho vinto Eh lo sappiamo Ma sei scarso La minica l'ha trovato Cos'è che ha trovato Cos'è questa La minica C'è una minica C'è una minica A terra Come una minica Come una minica Ah eccola C'è una minica A terra Ma che cazzo Ma chi ce l'avevo Secondo me era tua Hai riniziato Perfettamente Mi sa G Vabbè ragazzi Per questa partita è tutto Spero avviate divertiti Ci vediamo al prossimo video Adesso ce n'è un altro